E finalmente si ritorna a spacchettare! Hello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Master606 E oggi siamo tornati a spacchettare Finalmente, oggi avremo 11 pacchetti Visto che dovevamo spacchettare le due alla volta che facciamo in ogni video Come dai 10 pacchetti Oggi ne spacchetteremo tre Scusate Ehm Questi sono i tre pacchetti E andiamo ad aprire il Primo Hai dovuto il pacchetto Allora troviamo subito un bel Fabrizio Cacciatore Andiamo con il secondo Oh Fiorentina Ah no ho sbagliato, Milan Manuel Locatelli Questa era doppia perché l'ho trovata In qualche scorso video Giovanni Simeone Che sfortuna non ho vinto La squadra del Frosinone Oddio La Dea in Europa La Dea in Europa La Dea in Europa Figata raga Al nostro cordiale album ve lo porterò Perché ce l'ho su di sopra La Dea in Europa La Dea in Europa L'Atalanta Andiamo con il secondo pacchettino Sto pacchettino qua Bello bello Già ne ho visto uno Ma dettagli Ne ho trovato uno Dell'Udinese Con cui abbiamo Ci siamo scontrati Nella live L'Udinese Andiamo con Sylvan Widmer Andiamo sotto Vediamo sotto Oddio Lazio Scusate ci vedono le carte Ivan Vargic E Remonesi Che sfortuna Treda del Ternana E Fiorentina Woman Che dovrei Forse avere già Va bene ragazzi Andiamo con il Secondo Andiamo con Fiorentina Woman Con la Dea In Europa Andiamo con il Ultimo Con l'ultimo Pacchettino Ne troviamo già Uno del Genua Miguel Veloso Adel Tarab Enrico Berzotti Che sfortuna Non ho vinto Treda la Spezia E Sadik Che questo mi sa Che ce l'ho già Sì mi sa Che ce l'ho già E niente Raga Abbiamo solo trovato La Dea in Europa E la Fiorentina Woman Andiamo da A prendere il nostro Cordiale Album Raga Ok ragazzi Abbiamo il nostro Cordiale Album Qua abbiamo anche Gigio Che l'ho trovato Mentre andiamo A prendere l'album Oggi Andiamo ad attaccare Solo queste due Che ci sono capitate Ovvero La Dea in Europa E Fiorentina Woman Andiamo subito ad attaccare Fiorentina Woman S4 Qua ci sono le vecchie date Delle classifiche Ma qua c'è la serie Dicono anche L'Eco Che avete visto Qualche video fa Fiorentina Woman No Non ce l'ho già Ho solo Tavagnarco Empoli Ladies E Juventus Woman E adesso andiamo ad attaccare Fiorentina Woman Che Niente Andiamo ad attaccarlo Ah no Cosa proprio Qua nel riquadro Ok ragazzi Andiamo ad attaccarlo Andiamo ad attaccarlo Per bene E mi Mi ha attaccato benissimo Proprio dentro Al riquadro Cioè Voi non lo vedete Ma io Sì Andiamo con il 32 Che è la La Dea in Europa Se siete dei tifosi dell'Atalanta Siete degli dei Perché Perché Proprio La 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 Atalanta si chiama Deo in Europa Chi ti fa l'Atalanta È un Dio Quindi siete dei grandi Andiamo ad attaccare La Dea in Europa Ok ragazzi Il primo Spacchettamento Dei 11 pacchetti Può terminare Anche qui E Spero che vi sia piaciuto il video Come a solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Noi ci vediamo in prossimo video Oggi Uscirà questo video E uscirà anche un prossimo video Che non vi posso spoilerare Ovviamente Se non siete corretti Iscrivetevi Ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi